Ciao ragazzi, stamattina vi parlo dell'effetto Peltzman, oppure Peltzman effect, che consiste nell'assumersi più rischi del solito, maggiori rischi, quando ci sentiamo più sicuri. È effettivamente un paradosso che è stato scoperto dal professor Peltzman, professore di economia, il quale ha visto che in seguito all'introduzione dell'obbligo della cintura di sicurezza nelle auto, inizialmente i tassi di feriti e morti scesero, ma dopo poco tempo questi tassi tornarono al punto di partenza, quindi alla stessa incidenza che c'era prima dell'adozione delle cinture di sicurezza. Perché succedeva questo? Succedeva questo perché le persone che indossavano la cintura iniziavano ad andare più veloci, a guidare in modo più veloce, quindi ad assumersi più rischi, proprio perché si sentivano più sicuri dal fatto di indossare la cintura. Il fatto di andare più veloci aumentava la probabilità di fare incidente e che a sua volta aumentava il tasso di feriti e morti. Quindi come vedete è proprio effettivamente un paradosso, cioè noi più ci sentiamo al sicuro più tendiamo a correre dei rischi, ma infatti sarà capitato anche a voi di notare come spesso proprio gli incidenti automobilistici capitano quando la situazione è calma, tranquilla. Magari ti manca poco per arrivare a casa, la strada sembra molto libera e tranquilla, tu azzardi quella manovra in più che poi ti porta a fare incidente. Ora, l'effetto Pelsman si applica in tutti i cambi della vita, anche nel campo del lavoro. Infatti si è visto come anche gli operai sul cantiere, quando indossano il caschetto, tendono a fare delle manovre un po' più rischiose del solito. Ma nel mondo del lavoro si applica anche quando ad esempio la nostra azienda ha un trimestre molto positivo e allora in seguito a quel trimestre molto positivo noi nel trimestre successivo azzardiamo un po' più di rischio, ma in quel caso corriamo il rischio di tornare al punto di partenza e di annullare il vantaggio che avevamo creato nel trimestre positivo, diciamo così. Quindi il consiglio che vi voglio dare è quando vi sentite sicuri non ritornate alla realtà, non azzardate, non aumentate il livello di rischio che solitamente avete, per il semplice fatto che vi state sentendo, siete in una situazione che sembra darvi più sicurezza. Va bene? Questo è tutto per oggi. Ciao!